Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione dei relatori, ringrazio indubbiamente principalmente chi ha voluto questo incontro informativo per i cittadini, Covid, vacciniamoci informati, dito che è stato scelto, ringrazio il Presidente della Quarta Commissione Sanità, il Professor Alessandro Stecco che con i commissari anche qui presenti e altri relatori come il Dottor Guido Giustetto, Presidente dell'Ordine dei Medici di Torino e il Professor Giovanni Di Perri, professor ordinario di malattie infettive, primario di malattie infettive, ospedale al Medio di Savoia e responsabile scientifico del DIRMEI, si cercherà di trovare una linea comune da a seguire istituzionalmente per informare i cittadini sulle prossime vaccinazioni per la popolazione piemontese. Stiamo cercando di svolgere una serie di attività informative a 360 gradi, un po' su largo spettro, quello classico sulla carta stampata, sugli opuscoli, ma anche con attività di video in presenza e quelle anche da remoto. Abbiamo anche il Vice Presidente Andrea Cane, Vice Presidente Rossi Domenico della Quarta Commissione che cercheranno di dare una serie di risposte e porteranno anche le prospettive dei vari territori sul nostro territorio, sul nostro Piemonte. Abbiamo necessità di far conoscere a 360 gradi come dicevo il problema Covid da un anno a questa parte, tanti cittadini, la popolazione globale, mondiale, stiamo vedendo che si sta affrontando sempre di più in argomentazioni assai anche per i tecnici e per i professionisti difficili da spiegare, come Consiglio regionale attraverso anche degli enti, delle strutture che abbiamo istituito nell'ultimo periodo, come gli stati generali per la prevenzione e per il benessere, cercare di andare a costruire e strutturare tutta una serie di argomentazioni a utilizzo dei cittadini piemontesi. Benissimo questo incontro, soprattutto nella parte cosiddetta botte risposta delle domande più frequenti e cercheremo di creare poi un'argomentazione anche non solo video ma anche di risposta da mandare ai nostri cittadini per togliersi i dubbi che si creano in questo lockdown sempre di più tramite la rete con le fake news o come vengono definite malamente informazioni alternative, informazioni che purtroppo stiamo vedendo anche sempre di più all'interno delle nostre assemblee, l'assemblea del Consiglio regionale, ahimè purtroppo non è esautorato da fake news perché alle volte si discute di questioni che o sono vecchie o non sono esistite solo esclusivamente perché uno l'ha vista o l'ha interpretata malamente all'interno dei mezzi di informazioni dei social. Il Consiglio regionale e le strutture annesse come possono essere le commissioni o anche le strutture che sono della presidenza del Consiglio regionale come i stati generali per la prevenzione e per il benessere cercheranno nel prossimo futuro e già hanno iniziato sul tema della prevenzione negli ultimi mesi a cercare di togliere i dubbi ai cittadini piemontesi e indirizzarli a una normalità, una normalità che sicuramente arriverà nel prossimo futuro, si leggono tante notizie sui vaccini, si leggono disinformazione, la definiamo apertamente così, come istituzione regionale abbiamo l'obbligo e il dovere di spiegare al meglio che cosa può succedere o non succedere se uno si vaccina o non si vaccina, fortunatamente essendo un paese liberale e la Costituzione prevede e finché non sarà cambiata e fortunatamente non sarà cambiata su queste parti qua, c'è libertà di personale e ci deve essere la volontà da parte dei cittadini di autotutelarsi, tutelandosi come abbiamo visto con il lockdown, tutelando anche gli altri e nel futuro tutelando anche col vaccino, vaccinandosi sempre di più ci si sconfiggerà questa malattia che ci ha portato a una diversa normalità come viene definita, vorremmo sempre di più tornare a una normalità che conoscevamo un anno fa e abbiamo necessità perciò di togliere ogni dubbio per rientrare nella normalità che noi conosciamo e abbiamo conosciuto e vorremmo che i nostri future generazioni, soprattutto nel breve i nostri studenti piemontesi dei nostri figli possano ritornare alla normalità, a 360 gradi come abbiamo detto dobbiamo dare la possibilità a tutti i cittadini di togliersi i dubbi su cosa può avvenire se si vaccina e soprattutto se non si vaccina, per quello abbiamo necessità con esperti come quelli di oggi e sarà l'inizio di una serie di incontri a utilizzo dei cittadini per cercare di comprendere meglio non solo che cos'è l'istituzione della regione, del consiglio regionale del Piemonte ma anche tutte le strutture che sono connesse ad esso come sistema sanitario nazionale che fa capo all'assessorato regionale, ci saranno anche interventi del governatore Cirio e interventi dell'assessore Luigi Cardi, l'assessore della sanità che cercheranno di far capire e comprendere meglio ai cittadini piemontesi cosa è avvenuto nell'ultimo anno e cosa potrà avvenire nel prossimo futuro. Con questo non voglio ulteriormente dilungarmi, lascerei la parola ai relatori perché necessita che i piemontesi capiscono al meglio che cosa devono fare e non fare nelle prossime, nei prossimi mesi. Abbiamo sicuramente tanto lavoro da fare come istituzioni, auguro un buon lavoro ai nostri relatori ma che non sono solo oggi, che oggi sono relatori ma sono professionisti che hanno lottato e combattuto contro il covid e alle volte contro delle situazioni o definiamo malattie sociali, dei social che sono la disinformazione. Costantemente l'abbiamo visti sui social e anche nei mezzi di informazioni classici che controbattono e oggi abbiamo la possibilità qua in Regione Piemonte, in Consiglio Regionale, di poter continuare questa informazione corretta. L'invito sempre a tutti i cittadini di continuare a mantenere alta l'attenzione, di mantenere soprattutto alta l'attenzione sull'informazione e un'informazione corretta è quella che dà il Consiglio Regionale Piemonte. Grazie e buon lavoro.